Oggi prepariamo i carciofi ripiene con la mollica di pane morbida, formaggio, prezzemolo, aglio e un pochino di pepe nero. I carciofi li ho lavati e li ho puliti, li ho lavati con acqua e limone, li ho fatte asciugare un pochino e li sto riempendo con questo preparato di mollica di pane, formaggio, pecorino, aglio e pezzemolo. Ho fatto un soffritto con la cipolla, i gambi dei carciofi puliti, spellati, tagliati a pezzettini, li ho fatti appassire un pochino nel tegame e poi ho messo un pochino di comodoro, li ho fatti insaporire e li ho fatti appassire. Ora li sistemo tutti qui dentro, ora li metto con uno recipiente così nei lati l'acqua quanto basta. Secondo i carciofi quanto sono tenere e quanto sono un pochino più duri, dipende dalla cottura. Buona giornata, grazie, grazie.